e c'è l'ultimo Lorenzo nemmeno non, non ha pazzo, è te la nostra sitta un po' tu fai il canzazzo non hai basta perdere questo caffè mi devi fare meglio la prendere tu non lo guardi eh tu non lo guardi tu non lo guardi tu non lo guardi ma io lo guardi la pizzo Sì, sa madre hai l'adulto? E lo sa? E lo sa? Giovanni, falla ridere! Giovanna! Che stai a fare? Che stai a fare? Antonia! Che stai a fare la saluta! Giovanna! No, no, devi morire! Sì! Giovanna! Ma ce lo metto io! Eh! Dai! Ciao! Viva, viva! Viva! Non lo manca! Vabbè! Che stai a porto su? Ma vediamo se ci siamo arrivati pure a noi! Sì, sì! Tu me andavi! Eh! Ma c'è grande forte allora! No, ma io stai a toccare... Sai come sono stato due mesi, no? Sì! Tu? Eh, un'altra volta ci può venire... Opo ci portiamo in giornata... Manna! Sì! Allora il vent! Sì! Viva! 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 il pulito degli saggiocardini como la vengi mo la vengi ma la vengi ma la vengi ahahah non le ha pionde non le ha visto da fare nera nera Ciao, ciao, te la fai bionda tu? Oh, bravo, bravo. Senta qua, quando sta qua? Se sta fino al 24, deve dare partita a posto. Si, si, ci ha detto che adesso porta quell'altro filmino di Lorenzo. Così lo vedete, sta l'olore e tutto. Ma qua, diciamo la domenica, no? No. Onde dammi il numero di telefono? Vedi, ci telefono. Eh, ma io già lo so, se ci vuole l'elenco lo so trovo. Sì, ci stasso lì. No, perché se no lo bussiamo, il figlio, allora è meglio. Secondo tempo. Eh, magari te ne so lì. Bene. Allora, all'almeno, vabbè. Ma che ne chiamo? Allora, come ti chiamo, non so il libro me, ma amore, stavo lì, presto io perché è stato finisce da pesare, ma la mia gente mi chiamava. Sto a pagli tutto, non puoi scegliere. Allora, se no è venuto, buonasera. Ehi, ha l'almeno, ragazzi. Eh, bravo. Allora, bravo. che è una porca che ci sia a mantenere. Ah, l'ha capito, sì. E a mantenere che assaggia. Eccola, eccola, bobbolo, bobbolo, bobbolo. Eccola, eccola, eccola. Muore, muore, muore. Oh, tu, tu, tu. Io che ti sento, mi piangono a voi. Ora ti sento pur tu. Eh, eh. Ecco qui, eh. Allora, eh, eh. Eccola, eh. Ma, ma, a me, ma lo è no ma che... in tutte le pallane. Ma le scuole di schiagli? No. Io sono maudegato un sacco. E, ecco, io, agli undici di dicembre, un cittadino, che mi senta qui a me. Vai, dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Ci sono arrivati. Ma vuoi la fita? Eh, a oggi. A oggi. E tu, guarda. Chi sei tu? 35. Ah. e allora Non lo rendi così senza piedi, basta. Basta. Ciao, Lorenzo. Basta, basta. No. Tutti tre. Tutti tre. Che è il bicchiere? Eh, un po'. Fagli tre. No, io non bevi. No, io non bevi. A tre. 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 Che c'ha così senza piedi con pane, no. Vi bevi. Eh, eh, eh. Eh bevo. Eh, va bene. Eh. Eh salute! Salute, salute, salute. Salute, salute. Oggi farei anche tanto di felicità. Salute. 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 Eh. Se va bene, te la bevi perciò, eh. Pio! 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 Ma sai il mio filmino che sta nella carota per cucci? Per il buccione che non è già basso, lo bichetto! Ah, eh! Ha visto? Eh? Salute! Salute! Per il buccione che non è bichetto già basso! No, ne ho prego due posto a dire! Eee, salute! Senta, eh! Ma le dà mannà perciò, eh! Una, eh! Deche? No, hai chiesto che c'è! Eh, che è? Che cosa vuoi vedere come sta? Te la fai pure vedere il logo! Eh, eh!